Senti parlando qui non che l'abbai hobbi ma miro di dire lo che mi spera e poi ora miro anche la prima plataforma che aveva un'unità Noi aveva tre nuovi e tre che stavano trattando a casa e uno di un veterano per il 2013 trattando i basulti non morali Però poi ora miro che aveva quella generazione nuova di join in In mezz'ora aveva una base per trattare con altri, quasi non miro di differenza di color Da pensate che noi abbiamo fatto un forum per il motivo che noi stavano creare dialogo, idee, cosa che arriva, informazione, educazione, etc. Tutte le cose non è Quindi mi sento che l'abbai è buono, ma sai che è vero che c'è 18 mili e piccoli firmano anche C'è un'altra persona che non ha un'adressa iPhone, di quali 6 mili e piccoli sono certificati Sì, il nostro sindaco e il nostro sindaco ha un'adressa, di quali sono i rispetti E' preoccupazione che noi abbiamo E' attenzione, quando noi abbiamo bisogno, attenzione per il assunto morale E' speranza che qui ci siamo in un'esperanza di rispondere Mi posso votare in direzione, qui E' questo Parlamento viene morale Questa è la verità, viene un deficit di moralità, molto serio e preoccupante la loro moralità non ha mai di empattare e l'empatare è l'abbai ma nell'abbai perché non si può essere empattare e poi ho ganna tutti i giorni per la maggioranza quindi mi piace che qui in oggi noi vogliamo adressare e parte in anno quindi di noi parte siamo satisfezzi e abbiamo più bambini in questa la presentazione di questa il podcast il nostro programma passale è netto per me con il votamento passare in un'accumulazione di ture e altre debatte che ci sono stati come ti ho visto, by the way, buon lavoro roba e non adulta sono un tremendo lavoro per trasmissione di l'anti e adressare è qualcosa che è urgente per la moralità non c'è nessuno che arriva già e mi manda, grazie a Dio che non c'è la chance di portare tre selle in forma di più ampia quanto possibile e mi voglio accentuare anche con l'Embagata Cristiana Arruba che è una realtà e ti che arriva in un'università che mi manda politico non cristiano con una base moral forte che non ci sono ancrata in Palabra di Dio da loro alimentare e un'amporosa è sabedoria, esperienza e il discernimento che a Palabra di Dio ti pide poi sarà un'unico che è un'unico che è un'unico che è un'unico che è un'unico